Sul tema delle coperture, delle capriate e di come questo patrimonio anche in qualche modo a volte è più da conservare più che da sostituire, vediamo l'approccio proprio progettuale come è da voi proposto. Buongiorno a tutti, mi presento, sono l'ingegnere Mirko Proietto, sono appunto direttore operativo per la società Sicurtecto del produttore Sistecto. Con me c'è l'architetto Mario Zigiotto, ci siamo trovati a collaborare in questo caso studio che abbiamo il piacere di presentarvi, che ha riguardato proprio il consolidamento delle capriate e ligne della chiesa Santa Marta in Arona, un edificio del Settecento, molto storico e affascinante che sin dall'inizio ha catturato un po' il nostro interesse, soprattutto perché in un primo sopraluogo con l'architetto Zigiotto, accedendo al sottotetto, ci siamo trovati davanti queste strutture antiche, molto belle, le capriate, che però necessitavano di alcune accortezze, alcuni interventi mirati e molto contenuti per garantire poi l'efficienza di questa copertura nel corso del tempo. E a proposito di capriate, un incipit su funzionamento di questi elementi. Sono semplici incastri che gestiscono un complesso traffico di forze, lo vedete nell'immagine, ci sono degli sforzi interni di trazione, di compressione e degli sforzi esterni rispetto sia al carico portato dalla copertura, sia dai carichi accidentali, neve, sisma e altri eventi in generale. Questi semplici incastri permettono la corretta trasmissione delle forze e gestiscono tutte le sollecitazioni e i carichi delle coperture. Queste venivano utilizzate in passato per coprire luci molto estese e sono ampiamente diffuse all'interno del nostro patrimonio ecclesiastico e in tutto il patrimonio in generale. E proprio per questo, per noi, sono una testimonianza architettonica che ci riportano un po' indietro nel tempo a raccontarci la sapienza dei capimastro che nel passato costruivano con le conoscenze dell'epoca e con le caratteristiche costruttive locali. A noi capita spesso di trovare proprio elementi diversi di paese in paese perché i legnami sono diversi da un paese con l'altro. E questo per noi è una testimonianza proprio identitaria di quello che ci è stato tramandato dal passato e che, a nostro modo di vedere, si deve conservare nel futuro, sia per il patrimonio che poi per la comunità che vive questi ambienti. Spesso non sono visibili perché celate da calpestii di copertura. Il nostro approccio è quello di andare un po' oltre il visibile, approfondire questi ambienti e analizzare con uno sguardo un po' critico e analitico questi elementi, in modo tale da rilevare preventivamente eventuali punti critici che possano essere poi risanati e messi in sicurezza. E proprio per quello proiettiamo questa immagine che fa capire molto bene che spesso e volentieri la copertura è un insieme di elementi che può venire meno. Vediamo l'esempio di un puntone spingente in un'angolata con un classico rivaltamento semplice. Sono elementi strutturali che sorreggono le coperture fatte da elementi vivi che subiscono a loro volta anche sollecitazioni esterne, carichi, cicli termici, tutta una serie di movimenti. Questi incastri e queste connessioni, spesso e volentieri, se ne viene meno una, compromettono la stabilità di tutta la capriata e di conseguenza di tutta la copertura. Secondo noi è sbagliato dire è lì da tanti anni, rimarrà lì. Bensì è opportuno dire è lì da tanti anni, lo rispetto, quell'elemento, quella copertura, quella capriata nello specifico, ma approfondisco e verifico se lo stato di salute che aveva negli anni in cui è stata costruita ad oggi è rispettato. E tutto questo è possibile farlo con attività diagnostiche, con rilevi preliminari, con tutta una serie di componenti ingegneristica che contraddistingue un po' il nostro approccio. E queste sono le principali criticità che io ho voluto riportarvi perché fanno capire bene nel momento in cui ci troviamo ad affrontare un sopralluogo in un sottotetto quali possono essere i primi segnali di rischio e di degrado. Caprette spingenti, lo vediamo nella prima immagine a sinistra in cui un puntone ha stallonato quindi ha perso l'appoggio nel nodo con la catena e inizia a produrre una spinta sul paramento murario esterno. Questo può causare sia dall'esterno dell'edificio degli avvallamenti che anche internamente si inizia a notare che c'è un movimento in atto. Il secondo, il più classico, è lo sbandamento dei monaci. Lo vediamo nell'immagine, solitamente in passato si faceva così a mezzo di staffe oregge metalliche si cercava di tenere in linea e allineato il monaco rispetto alla catena. Lo vediamo che lui ha iniziato a sbandare. Questo è un inizio di movimento di torsione della capriata che alla lunga può portare poi a un ribaltamento fuori piano. L'assenza di controventi è la cosa più semplice da rilevare. Le capriate nella loro direzione sono ben pensate e progettate. Spesso e volentieri non sono pensate bene fuori piano, quindi lungo la linea orizzontale della copertura in questo caso. È lì che sarebbe opportuno inserire, come dicevano altri colleghi questa mattina, dei controventi di falda in modo tale da rendere scatolare e monolitica la copertura. E poi nodi congestionati. Spesso e volentieri queste situazioni che vedete nella quarta immagine le troviamo nella chiusura delle coperture a padiglione dove l'ultima capriata ha poi vicino a lei tutte le falde di chiusura e le linee di displuvio della copertura. I puntoni che danno proprio le linee di displuvio alla copertura finiscono sull'ultima capriata presente. E qua si trova una congestione, cioè un insieme di forze ed elementi che molto spesso capire come girano e come vengono poi passate dalla copertura alla capriata non è semplice. E infine appoggi non funzionali. L'immagine emblematica, questa ci troviamo nelle marche, fa capire bene come la capriata, in questo caso del sottotetto che si trova al piano superiore, la sua catena sta lavorando da trave per il soffitto, il solaio sottostante. Inoltre l'appoggio non funzionale è proprio questo, cioè il nodo puntone catena che è di molto al di fuori della muratura. Solitamente invece è consigliabile per una corretta trasmissione degli sforzi che lo stesso sia o annegato o comunque abbia un appoggio più esteso rispetto alla muratura antistante. Il nostro motto è quello di conservare e non sostituire. Spesso e volentieri troviamo situazioni in cui andando a fare sopralluoghi il committente o comunque chi lo segue preferisce sostituire e ricostruire l'intera copertura. Alle volte non è così perché poi analizzando nel dettaglio le caratteristiche del legname, le geometrie e le luci che coprono queste capriate molto spesso invece nonostante sono strutture vetuste continuano a fare un buon lavoro e quindi molto spesso necessitano di un presidio che gli allunghi un po' la vita e continui a farle lavorare correttamente. E quindi per noi è importante presidiare oltre che per conservare e per garantire la sicurezza anche per la comunità che vive questi luoghi che identifica in alcune caratteristiche anche architettoniche il luogo stesso per noi è importante continuare ad averlo nello stesso modo senza modernizzarlo, passatemi il termine. E qua abbiamo messo a confronto poi le differenze tra la completa sostituzione delle capriate o il consolidamento conservativo a mezzo di sistema resistecto. Come vedete e come saprete benissimo la completa demolizione e ricostruzione delle capriate è molto invasiva perché necessita di rimuovere e ripristinare la copertura ovviamente con tutti i ponteggi nei dintorni dell'edificio e comporta costi elevati e tempi di intervento molto lunghi oltre che impattare sull'equilibrio statico della struttura ovviamente vado a sostituire un tetto dovrò riverificare staticamente l'idoneità dell'intero edificio e oltre che poi a volte produrre anche dei danni al valore storico e romantico se vogliamo del bene. Invece diciamo un intervento come quello che proponiamo noi avviene all'interno della copertura quindi non è necessario scoperchiarla non sono necessari i ponteggi tutto questo comporta un abbattimento dei costi e riduce di molto i tempi di intervento anche perché la componente ingegneristica di cui accennavo prima permette di progettare l'intervento identificare l'applicabilità del prodotto e limitare al minimo gli imprevisti in cantiere ovviamente conferendogli poi una velocità di installazione. Ci muoviamo nell'ambito dell'intervento locale quindi anche la parte di progettazione se vogliamo è molto meno diciamo complessa rispetto a un miglioramento o un adeguamento e conserviamo gli elementi originali. Ovviamente il prodotto ha subito anni di studio ricerca con diversi ricercatori e è stato approvato poi dalla sovrintendenza e dal genio civile quindi ha superato anche quelli che sono degli step importanti per poi diffonderlo sul mercato a livello nazionale. E quindi adesso arriviamo al punto resistecto è proprio il consolidamento conservativo sono diversi elementi sono delle flange in acciaio perforate che abbracciano gli elementi che compongono la capriata lavora per attrito per dare stabilità alla copertura ossia lo vedete nell'immagine è proprio una flangia con questi fori e tutti i fissaggi che avvengono all'esterno della flangia stessa non fora l'elemento l'immagine inganna il golfare nel mezzo della flangia sembra che penetri l'elemento in legno ma in realtà è fissato con una vite piatta all'interno una vite sottotesta quindi non viene prodotto nessun foro al legname e questo evita l'innesco di marcescenze aggressioni da agenti biotici e abiotici tutto quello che poi comporta un eventuale foro oltre che evitare carichi e sforzi concentrati sul legname la flangia ridistribuisce il carico consente la traspirabilità è preforata proprio per quel motivo quindi il legno essendo un materiale vivo continua a vivere e a respirare è un intervento sia riconoscibile che reversibile questo perché ce lo richiedono le NTC 2018 riconoscibile perché è ovviamente standard è di colore verde ma è verniciabile diciamo con qualsiasi tipologia di colore ma ce lo richiede proprio la normativa è reversibile nel senso che non avendo forato l'elemento io un domani posso rimuovere il sistema senza aver prodotto dei danni alla struttura ovviamente l'altra cosa che si fa rispetto al passato di innovativo è che io posso misurare il reale contributo che sto fornendo agli elementi e posso ritararlo nel momento in cui le linee le funi in acciaio che compongono il sistema perdono di tensione io posso ridare della tensione e misurare l'effettivo contributo che sto fornendo è un sistema che è certificato con prove di laboratorio in Politecnico di Milano è certificato e collaudato in opera a mezzo di ingegnere strutturista e ha superato delle approvazioni di cui ho già parlato prima come ci muoviamo? una valutazione preliminare con un sopralluogo in sito una progettazione su misura che vuol dire una volta rilevato geometricamente l'edificio e gli elementi che compongono le capriate andiamo a produrre questi bracciali ad hoc perché rivestono proprio la sezione linea e lo sappiamo bene che all'interno di un sottotetto convivono spesso travi squadrate travi tonde legnoso fiume insomma c'è un po' di tutto proprio per questo come un vestito su misura il sistema viene prodotto ad hoc realizzate le componenti progettata poi l'installazione si procede con il cantiere ultimato il cantiere viene verificato che il reale contributo che ci si aspettava dalla progettazione preliminare lo si sta fornendo effettivamente a prodotto installato vengono consegnate le certificazioni poi viene fornito un piano manutentivo in quanto essendo il sistema composto d'acciaio quindi anche le funi che collegano una flange all'altra sono in acciaio queste nel tempo per via degli sbalzi termici potrebbero perdere tirarsi oppure lasciarsi un po' andare allora viene fornita una manutenzione costante in modo tale da avere l'assoluta certezza che le tensioni progettate siano poi quelle che nella realtà stiano funzionando e giusto per chiudere è importante per noi soprattutto in quest'ambito approcciare con un rilievo preliminare un sopralluogo e una stesura proprio di un'analisi preliminare dello stato di fatto delle capriate per identificare su territorio quelle che possono essere le strutture che nel tempo necessitano di una programmazione di intervento ed evitare di intervenire su quelle che magari sono in un buono stato di salute successivamente avere sotto mano tutta quella che è la documentazione utile per accedere poi ai vari bandi o finanziamenti che spesso e volentieri hanno un lasso di tempo molto limitato e quindi avendo in mano uno studio preliminare una relazione diciamo una progettazione preliminare tecnico-economica di intervento io sono già pronto poi per accedere a eventuali finanziamenti o bandi adesso lascio la parola all'architetto Mario Zigiotto che vi porterà all'interno del caso studio e del cantiere che ci ha riguardato in Arona grazie a tutti grazie buongiorno allora adesso vi faccio vedere quello che lui vi ha raccontato un po' teoricamente la pratica che abbiamo adottato nella chiesa di Santa Marta due premesse storiche velocissime posa prima pietra 1592 1650 la chiesa è completata e viene conferita alla confraternita di Santa Marta nel 1819 abbiamo l'occupazione delle truppe austriache diventa praticamente un deposito e una stalla nel metà del secolo del ventesimo c'è un rifacimento delle decorazioni parete murarie e anche delle volte e alla fine degli anni 70 80 non si sa bene perché non c'è documentazione viene rifatto qualcosa della copertura vedremo poi con quali chiamiamo le conseguenze noi partiamo nel 2014 con il restauro della facciata che è una facciata in pietra d'angera scolpita fuori opera e collocata come rivestimento quindi la facciata non è portante e poi dal 2019 al 2021 operiamo il restauro interno e anche il restauro della copertura un'ultima nota sintetica la chiesa non si chiama Santa Marta ma si chiama Santa Maria di Loreto perché la Margherita Tribulzio Borromeo la mamma del cardinal Federico Borromeo che era devota al santuario della Madonna di Loreto decise di costruire una chiesa dedicata a Santa Maria di Loreto infatti questo involucro esterno contiene all'interno la riproduzione in scala 1 a 1 della Santa Casa di Loreto si chiama di Santa Marta si dice che è di Santa Marta perché nel 1650 venne dai Borromeo data la gestione della chiesa a questa confraternita che appunto le confraternite avevano quindi tutta una gestione patrimoniale spirituale artistica eccetera e di conseguenza comunemente si dice di Santa Marta questo era l'interno questa è la controfacciata come vedete c'erano tutta una serie di infiltrazioni che erano infiltrazioni di anni precedenti in effetti la copertura in sé non dava segni strani ma l'interno era abbandonato e degradato così da parecchi anni e queste qui sono le decorazioni di metà del 1900 decorazioni che quando siamo andati poi a fare i descialbi abbiamo trovato che erano proprio state disegnate con squadretta gognometro e incollate con addirittura alvinaville quindi era una cosa che anche con la sovrintendenza si è valutato non ne valesse la pena mantenerla di notevole importanza invece tutto questo marcapiano con tutte le modanature delle colonne delle esene interne che anche quelle sono tutte in pietra d'angera scolpite fuori opera e poi collocate come rivestimento come decorazione questa è la parte invece della parte terminale della chiesa dietro il coro dietro l'abside e questa è la muratura esterna che oltretutto è in un cortile privato per cui normalmente non si ha la possibilità di vederlo e quindi non si può controllare e questo qui invece è la sua controlesione interna esattamente della parte interna della parete terminale della chiesa e vedete anche che c'è proprio una lesione quasi come uno stacco fra la muratura di fondo e la volta allora questo qui era proprio il classico caso di cui stava parlando prima Mirko cioè noi abbiamo un tetto a capanna con la parte terminale a padiglione la parte terminale a padiglione quindi l'ultima capriata si ritrovava con un nodo congestionato come portanza e in più aveva i puntoni che spingevano sugli spigoli e sulla mezzeria della parete e ha causato questi danni qui chiaramente il primo elemento di frattura e il primo punto debole è dove c'è un voltino che mi porta alla finestra e in questo caso avevamo queste lesioni ripeto noi non avevamo evidenza che ci fossero dei problemi di infiltrazioni o problemi strutturali le crepe erano tutte scure non trovavamo segnali per terra di intonaco o di colaticci strani e sapevamo che negli anni settanta avevano rifatto un po' la copertura e quindi siamo andati abbastanza sul sicuro se non che mi è venuto un po' il dubbio e abbiamo deciso di fare un monitoraggio strutturale quindi siamo partiti ad apporre degli strumenti di controllo e nel contempo siamo entrati nel sottotetto entrando nel sottotetto abbiamo riscontrato questa situazione quindi carichi anomali di materiale di manutenzione sulle catene che vanno chiaramente a sbilanciare quello che è poi la ripartizione dei carichi elementi mancanti qui ci manca una saetta il monaco fuori piombo controsaettato in un modo con la controsaetta dall'altra parte mancante quindi mi andava via quelli che sono i piombi allora a maggior ragione abbiamo posizionato sia internamente nel sottotetto che poi all'interno della chiesa tutta una strumentazione di controllo che mi permettesse di verificare se i cinematismi riscontrati sicuramente da un punto di vista visivo fossero ancora in atto e abbiamo visto che queste cose erano comunque in atto quindi non era solo un ciclo stagionale come si diceva prima ma al termine della stagione il cinematismo ci dava un incremento leggero e abbiamo anche individuato che questi cinematismi erano ancora frutto fondamentalmente allora inizialmente sono stati sicuramente frutto del fatto che la chiesa è a 20 metri dal lago qui siamo scusate ho dimenticato di dirlo per chi non lo conosce a Rona sponda piemontese del lago maggiore da qui sono un'oretta di macchina vi invito a venire a vedere la chiesa perché ne vale la pena la domenica è normalmente aperta e quindi sicuramente c'è stato un problema fondazionale legato alla questione delle piene del lago la chiesa è circa a 4 metri col piano di calpestio superiore all'elemento al piano di calpestio della piazza e il lago è normalmente un metro sotto tenete conto che nel 1800 la chiesa aveva dentro un metro d'acqua l'escursione del lago maggiore quando ci sono le piene è anche di 5 o 6 metri sia in piena che in secca quindi da quel punto di vista lì sicuramente c'era stato un problema di quel genere il problema è che però non è più riscontrabile perché avevamo dei segnali che a livello fondazionale queste cose non avevano più invece era riscontrabile l'effetto della copertura quindi avevamo ancora la copertura che stava interferendo in maniera negativa con queste spinte non più controllate calibrate e quant'altro quindi abbiamo fatto il controllo per vedere il comportamento della struttura e a questo punto abbiamo deciso come procedere avevamo l'esigenza di capire quali fossero gli effettivi problemi sicuramente un obiettivo fondamentale era il mantenimento delle capriate cioè della copertura in quanto tale e poi volevamo avere la certezza che dovendo poi operare il restauro interno come poi vedremo la chiesa fosse comunque in condizioni di sicurezza da due punti di vista sicurezza per quanto riguarda quindi la bontà del restauro eseguito quindi non buttare via spercare soldi per un restauro che dopo andava ad ammalorarsi per cause esterne e una sicurezza anche nella fruibilità e nell'agibilità della chiesa stessa la chiesa è adibita sia a celebrazioni ma fondamentalmente è anche aperta proprio a un flusso turistico l'anno scorso è stata visitata da circa 35.000 persone sì in piazza e quindi lì in effetti allora sempre grazie a un continuo colloquio e confronto con chi ci stava seguendo il monitoraggio strutturale abbiamo individuato nella struttura della Resistecto il braccio operativo che mi poteva supportare come progettista questa è una cosa che ci tengo molto ad evidenziare perché io non sono un ingegnere ho qualche competenza dal punto di vista statico strutturale ma non è proprio la mia competenza anche se mi appassiona molto aver avuto da subito un braccio portante come il loro servizio offerto già dalla diagnostica iniziale per me è stata fondamentale perché mi ha permesso di poter condurre tutto quello che è stato poi anche l'intervento effettuato in una maniera molto coerente e soprattutto attenta alla conservazione e anche al non sprecare risorse che normalmente sono sempre poche quindi c'è stata la verifica da parte della Resistecto con una strumentazione di quelle che erano tutte le condizioni del legname quindi ogni capriate ed ogni elemento della copertura è stato verificato come presenza di umidità come consistenza del legname come configurazione geometrica e come collocazione all'interno della copertura considerando poi tutte quelle che erano le parti diciamo fuori geometria e tutte le parti che erano mancanti o da integrare o anche integrate in maniera errata fatto questo studio si è andato a individuare per ogni elemento quindi noi qui avevamo cinque capriate più una contro capriata in parete più i tre puntoni terminali spingenti nella parte a padiglione di ogni elemento si è andato a individuare dove si doveva intervenire e con quali elementi queste sono le ganasce di cui dicevo lui prima in questo caso era necessario andare a individuarne una in più in questo caso in questa capriata no e lì si vede lo schema dei tiranti delle funi con anche tutte le controventature sul piano di copertura di cui la copertura era completamente sprovvista chiaramente ogni elemento quindi è disegnato su misura realizzato su misura non è standardizzabile e ogni elemento poi viene dotato della golfara che è già calcolata per il tiro che si deve andare poi a predisporre come tensionamento dei cavi in acciaio quando vengono poi posti in opera fatto questo noi abbiamo montato un semplicissimo ponteggio di servizio con cui le maestranze sono salite tranquillamente con le loro ganasce i cavi e quant'altro e sono entrate nel sottotetto per cui non c'è stata necessità di montare ponteggi intorno alla chiesa né tantomeno di smontare nessun elemento della copertura anzi si è operato all'interno e quindi anche da un punto di vista della sicurezza c'erano certi criteri che non si sono dovuti prendere in considerazione con un risparmio di risorse anche in questo caso in quattro giorni una squadra tipo di quattro persone ha posizionato in opera quelli che sono tutti gli elementi che erano stati precedentemente calcolati e poi in un giorno in due persone hanno operato tutto il tensionamento qui si vede l'operazione di tensionamento anche qui è molto importante considerarla perché da un lato è quello che poi dopo ci permette di avere le certificazioni della struttura del tetto della tenuta del tetto anche da un punto di vista strutturale ma soprattutto è l'elemento che poi ci permette nel tempo di poter controllare se la copertura è ancora in movimento se ci sono stati dei cedimenti o se ci sono state delle sovratensioni qui ormai siamo al terzo anno abbiamo già operato mi sembra quattro controlli di questi quattro controlli noi abbiamo ancora i cavi che sono in tensione come al primo tensionamento quindi vuol dire che la struttura è nel suo equilibrio e al momento non ha subito nessun tipo di deformazione che anche questa è una cosa importante qui vedete alcuni elementi che sono stati inseriti qui c'era da confinare un nodo in alto per cui si è andato a intervenire con delle ganasce apposite per consentire che il contrasto che si generava quel nodo fosse calibrato qui abbiamo il contenimento delle spinte siamo nella parte del padiglione quindi dove avevamo i tiranti che spingevano oltretutto questa era la capriata più fuori a piombo e in questo modo siamo riusciti addirittura a riportarla in geometria quindi senza smontare la copertura abbiamo fatto un'operazione di ricalibramento della geometria stessa della struttura ci sono dei rinforzi della catena il contenimento dei nodi e questi qui sono tutti non so se c'è nella slide dopo esatto poi ci sono anche tutte le controventature e quindi ci permettono anche di rendere antisismico il sistema copertura e in questo modo ci sono poi tutto l'allineamento dei monaci per cui tutti gli elementi singoli delle coperture sono diventati solidali l'una all'altra in questo caso noi abbiamo operato un consolidamento abbiamo integrato un elemento che se non ricordo male è questo e abbiamo preservato e mantenuto completamente quella che era la struttura originaria senza dover operare nessun tipo di diciamo operazione strana a quella che era la configurazione originale a quel punto operato l'intervento abbiamo anche vabbè tutta la relazione diciamo che il progetto è stato dotato mi è stata data come documentazione che poi è depositata presso la committenza chiaramente tutta la la relazione tecnica con la relazione di calcolo quindi tutte le verifiche che sono state fatte per quel che riguarda il dimensionamento degli elementi c'è poi dopo tutta la documentazione di certificazione di posa e degli elementi utilizzati e dopodiché c'è anche il piano di manutenzione che è quello che ci va a dare tutti gli elementi per poter fare una manutenzione programmata affinché questo elemento non sia più un problema nel tempo ora per noi il problema della manutenzione fondamentalmente di questa copertura è quando piove tanto o c'è la grandine verificare se le tegole si sono rotte o sono ancora intere perché da un punto di vista strutturale il problema che c'era prima è stato contenuto completamente e questo è un elemento molto molto importante perché ci permette di intervenire con una risorsa anche finanziaria molto contenuta e mantenere e preservare completamente quello che è il bene c'è il dinamometro quindi il dinamometro che va a misurare il tensionamento del cavo nella situazione in cui si trova al momento chiaramente conviene farlo sia nel periodo freddo che nel periodo caldo per la questione della dilatazione e il dinamometro mi va a dare con una tolleranza molto molto precisa quello che è il carico che era di progetto quindi di conseguenza ad un allentamento posso andare a intervenire e riportarlo in tiro o viceversa a una sovratensione posso andare a togliere la tensione che si è generata fatto salvo verificare la causa la soluzione che noi abbiamo adottato evidentemente qui si vede la convenienza economica non abbiamo dovuto montare e smontare un ponteggio non abbiamo dovuto smontare la copertura non abbiamo dovuto rimontarla non abbiamo dovuto appunto sopportare il costo di questo smontaggio di ripristino e abbiamo risparmiato sui tempi di esecuzione almeno tre volte tanto non abbiamo sostituito elementi e nella copertura tradizionale è più difficile prevedere dei controlli periodici sugli elementi qui invece abbiamo avuto una cosa molto più celere tenete presente che forse ma non forse la cosa più importante e il tempo giusto da dargli è tutta la diagnostica iniziale e tutto il dimensionamento degli elementi in modo che poi dopo quando si arriva in cantiere ingegnerizzato tutto veramente nell'arco massimo di due settimane in un tetto di questa dimensione parliamo di una di una copertura che ha una base planimetrica di 12 metri per 18 metri quindi non è enorme però in questo caso noi in 5 giorni abbiamo completato l'operazione l'unica cosa che abbiamo aggiunto a quello che è stato il loro intervento è stato un ponteggio di servizio per salire in copertura quindi verificata la bontà dell'intervento verificato che non c'erano più cedimenti e movimenti siamo andati avanti con il nostro intervento di restauro interno abbiamo recuperato gli intonaci originali seicenteschi che erano di questa fattura abbiamo recuperato le colorazioni originali seicentesche con dei discialbi questo è quello che era l'intervento visto entrando in chiesa Madonna Assunta del Prestinari quindi anche con elementi molto di pregio e questo qui è quello che si è ottenuto poi con il restauro dove siamo andati chiaramente a risanare tutte quelle che erano le murature le volte abbiamo eliminato i problemi di tutte le ridipinture e siamo andati anche a ricollocare quello che era tutta la macchina scenica dell'altare maggiore questo qui è l'altare frontale e questo qui è l'ingombro della Santa Casa Interna recuperando anche quelle statue e linee seicentesche Sant'Ambrogio San Carlo i due angeli con il confalone del crocifisso che erano stati rimossi proprio per dei problemi strutturali anche loro erano abbandonati uno era esposto in una chiesa l'altro era appoggiato in un altare i due angeli erano dentro un armadio che abbiamo trovato casualmente abbiamo verificato la geometria abbiamo ritrovato addirittura sulla copertura i ganci seicenteschi in ferro originali e quindi siamo riusciti a ripristinare grazie anche a quell'intervento questo tipo di riporre anche le sculture nella loro collocazione originale con gli agganci originali con gli agganci originali ricedo la parola a Mirko che fa saluto finale grazie Mario sarò velocissimo solo per dirvi a chiusura di tutto che ripeto per noi la sicurezza richiede proprio uno sguardo come dicevo prima oltre il visibile quindi spesso e volentieri accedere a questi luoghi che sono i sottotetti non è il massimo sono luoghi inaccessibili cupi sporchi insomma non sono proprio il massimo della vita molto spesso però dando solo un'occhiata identificando un po' quello che vi abbiamo mostrato cioè alcune tipologie di degrado riuscite a collegare il fatto che un inizio di vulnerabilità può essere fermata in tempo riconoscendo proprio anche solo graficamente il degrado quindi è importante accedere e dare uno sguardo che vada proprio oltre il visibile concludo dicendo che siamo a disposizione per sopralluoghi senza impegno per valutare eventualmente situazioni in essere e abbiamo un piccolo stand al di fuori anche noi se poi volete passare per della documentazione siamo a disposizione grazie a tutti e buon proseguimento grazie a tutti 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 grazie a tutti